Tu dimmi, come compagnia prenderesti un gazebo e poter venire al mare in due o tre amici alla volta? Oppure ci si organizza il sabato e la domenica e si va nel giardino, nella piscina dell'amico in questione? Quindi ci ammazzerebbero economicamente? Cresce lo sconforto dei concessionari di spiagge, ancora in attesa di norme e date certe. La domanda non è solamente chi verrà al mare, ma anche come dobbiamo far arrivare la gente? Visto che adesso nell'ultima bozza si parla del 29 maggio, ma il 29 maggio ci sono 25 giorni. Noi dovremmo sapere oggi più o meno come poter piantare gli ombrelloni, finire di fare i lavori in spiaggia e partire con il lavoro. Nicola Tanfani, titolare dei Bagnarzilla Fano, critica a ritardo delle regole per gli stabilimenti. La regione sta lavorando sulla bozza e se le linee guida al momento inserite entreranno in vigore, secondo i gestori sarebbero troppo restrittive. Si prevede infatti la registrazione dei clienti, il divieto di svolgere attività ludiche e ricreative, sanificazione costante ma anche evitare l'uso di banconotte e mantenere le distanze in acqua. Infine ombrelloni lontani, 4 metri e mezzo l'uno dall'altro con distanza di 5 metri tra le varie file. Questi ombrelloni mesci così con una distanza tra lettino destro e lettino sinistro di 3 metri, quindi eccessiva perché parliamo sempre di un metro e mezzo o due di sicurezza. Così messi così ci sarebbero 3 metri, uno. Due, passiamo dai 480 ombrelloni più o meno a 150, 180, 200, cioè un terzo. Una spiaggia come la nostra, io penso che quelle spiagge che hanno 100 ombrelloni faranno molta fatica, anche noi, noi faremo molta fatica a tenere aperto in base alle spese che abbiamo, De Magno, IMU, Tari, eccetera, eccetera. Se queste spese dovessero rimanere fisse, veramente io e mia madre ci stiamo chiedendo se conviene aprire. Con questo numero di ombrelloni, con le attività tipo beach volley, il bar che lavorerà un 10% dell'anno scorso, questo io vorrei capire, che non si parlasse più di bozza ma si parlasse di cosa definitiva per fare i miei calcoli, per sapere se posso aprire oppure no. Sarà difficile, secondo Tanfani, garantire anche i giusti controlli. Sotto l'ombrellone, se mettiamo ipoteticamente, possono stare due famiglie. Nel momento che sono insieme, chi è che deve intervenire? Io? Io faccio il bagnino o faccio anche lo steward, quindi, della spiaggia? E quindi, ecco, tante domande. Quest'anno ci vorrà un bagnino di salvataggio che guarda al mare e un bagnino di salvataggio che guarda indietro negli ombrelloni per far stare separate le persone. E poi, come dicevamo prima, su 480 ombrelloni ne mettiamo 200, adesso chi dice ai miei 284 clienti che non possono venire quest'anno che l'ombrellone non c'è? E poi, un'altra domanda, queste 280 persone, non trovando l'ombrellone, possono andare in spiaggia libera o le spiagge libera saranno chiuse? Cioè, se le spiagge libera sono chiuse, le spiagge private montano un terzo delle attrezzature, dove va la gente al mare quest'anno? Mentre si attendono notizie per gli stabilimenti balneari, oggi a Fano sono stati riaperti il parcheggio dell'ex caserma Paolini e i parchi pubblici. Entro domani poi le aree gioco verranno delimitate perché ne è vietato l'utilizzo. Sulle panchine ci si potrà sedere uno alla volta. Rimarranno chiusi gli impianti sportivi e la passeggiata dell'esippo. Il controllo sul rispetto dei divieti e su eventuali assembramenti spetta ai vigili urbani. Per le spiagge libere, invece, il Comune sta definendo le linee guida insieme alla Regione e ai rappresentanti di categoria. Quindi sicuramente ci saranno delle regole da rispettare e probabilmente saranno, come dire, sulla limitazione degli assembramenti e anche degli spazi e delle persone che potranno usare gli spazi e poi ci sarà un controllo capillare da parte della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto. Intanto molte persone questa mattina sono uscite per la prima passeggiata concessa dopo mesi di quarantena. Giovani e anziani, già dalle sette, si sono recati in spiaggia per correre, camminare o pedalare. Chi da solo e chi in compagnia di un amico a quattro zampe. Qualcuno poi non ha resistito e ha fatto il primo bagno in mare della stagione. Stamattina è la prima volta. Come si sta? Si sta molto bene, guarda che mare. È una meraviglia, speriamo che tutti siano prudenti e che mantengano le distanze. Direi che è come tornare a vivere, troppo bello. Sembra di volare, non c'è nessuno, il tempo è bello, era ora di uscirne. Adesso bisogna solo stare attenti. Di che quartiere è? Io sono di Pesaro. Ecco, quindi ha fatto tutta la ciclabile. Tutta la ciclabile per vedere il mare e per vedere com'era questo nuovo ciclo. E com'è? Bellissimo. Grazie a tutti.